Andrea Capozucca, STEAM People, scienza e arte per una nuova visione formativa. E questo è il libro di cui oggi siamo a parlarvi, cari lettori. Si tratta di un libro che è al tempo stesso un libro dai saldissimi fondamenti teorici, che getta rispetto al tema dello STEAM, di cui tra pochissimo parleremo, e anche di un manuale. È infatti un libro pratico, è un libro che vuole essere pratico, che vuole offrirsi a nuove generazioni di insegnanti aperti alla ibridazione fra le scienze cosiddette dure e le arti e a nuovi metodi di insegnamento della matematica e delle discipline scientifiche. Andrea Capozucca, laurea in matematica, PhD in scienza della complessità, insegnante di matematica presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Civitanova Marche, nonché insegnante presso l'Università di Camerino, ha scritto questo libro proprio per mostrare in quale modo e in quale maniera un nuovo approccio per l'insegnamento delle scienze cosiddette dure e della matematica in particolare abbia grande vantaggio, grande e quasi miracoloso vantaggio potremmo dire, dall'unione fra queste discipline e le discipline cosiddette artistiche. La separazione fra le discipline matematiche, le discipline scientifiche e le discipline artistiche, dice lo stesso autore, proclama lo stesso autore nel suo libro, è in realtà fittizia, è il prodotto di una certa parte della nostra storia occidentale e non è di sicuro il suo più profondo DNA. Questo bivio che a un certo punto della storia dell'Occidente separa le scienze dalle lettere, se così vogliamo chiamarle, o la matematica dall'arte, è un bivio che si può ricomporre, che può trovare una nuova confluenza, un nuovo nodo di collaborazione e anche di evoluzione. Il manuale è stato presentato per la prima volta al Festival di Fermo, Fermamente, che si è svolto nella seconda metà dell'ottobre 2022. È un libro, come vi dicevo, che da un lato esplora i fondamenti ed è ricchissima la bibliografia che lo correda, dall'altro invece ci dà gli strumenti e ci dà addirittura l'esito di alcuni esperimenti, perché non tace Andrea Capozucca e il suo libro, Andrea Capozucca con il suo libro, gli esiti a cui la dottrina, la disciplina dello STEAM è giunta nell'ambito degli insegnamenti e dei laboratori che sono seguiti o che hanno accompagnato gli anni di insegnamento presso le istituzioni nelle quali Andrea Capozucca come professore milita. Vi raccomandiamo dunque la lettura di questo libro che spazia dai più antichi esempi e dalle più antiche fonti dove scienza e arte sono presentate insieme fino agli esempi contemporanei più illuminanti di come scienza e arte unite possono dare i migliori risultati non solo per l'apprendimento delle une e delle altre ma per l'evoluzione integrale dell'essere umano. Grazie per averci seguito alla prossima puntata di questa stessa rubrica e ad altre occasioni per parlare di libri e iniziative culturali. A presto!